L'Europa zitta, salvo rarissime eccezioni, Sanchez che oggi sembra Che Guevara, il premier spagnolo, un moderato socialista, un moderato, soltanto per aver detto, nutro seri dubbi sul fatto che Israele stia rispettando il diritto internazionale, ecco, levata di scudi da parte di Israele, il ministro degli esteri Likohen ha ritirato, richiamato per consultazioni l'ambasciatore israeliano in Spagna l'ha richiamato a Gerusalemme. Perché questa violenza di azioni, no? Sanchez ha detto, ho seri dubbi sul fatto che stia rispettando il diritto internazionale, tutti sappiamo che ha violato il diritto internazionale, che sta facendo crimini di guerra, tutte le persone che si informano che ha fatto robe mai viste, Netanyahu fa sembrare, non lo so, Putin, Santa Maria Goretti, stanno facendo delle cose da macellai, ormai da settimane a Gaza, lo sappiamo tutti che stanno compiendo crimini contro l'umanità, ma Sanchez, per aver detto, ho seri dubbi che Israele stia rispettando il diritto internazionale, apre di cielo, reazione molto violenta dal potista diplomatico di Israele, sono oltraggiosi le dichiarazioni del premier Sanchez, per questo richiamo l'ambasciatore, questa è la dichiarazione del ministro degli esteri israeliano. Perché tale violenza diplomatica? Per dare un segnale agli altri paesi europei, non vi azzardate a seguire la linea spagnola, gli spagnoli hanno anche parlato di un possibile riconoscimento unilaterale dello Stato di Palestina qualora l'Europa non si muovesse, non seguite quella linea perché questa è la reazione, saremo violenti diplomaticamente parlando, lo sono altrove in maniera reale, richiamiamo immediatamente l'ambasciatore, definiamo oltraggiosi le dichiarazioni di Sanchez, magari gli daremo dell'antisemita, le solite logiche, per evitare che all'interno dell'Europa qualcuno possa alzare il ditino e dire però attenzione, quello che sta avvenendo è un massacro, una carnificina con chiaro da parte di alcuni intento genocidario, evitiamo che questo possa avvenire attaccando in maniera molto forte Sanchez. È tutto scena, è tutto ipocrita. Altra dichiarazione della Casa Bianca, no a operazioni di Israele a Gaza Sud senza proteggere i civili, ma perché non le hanno già fatte? Pensate che hanno bombardato soltanto Gaza Nord. Gaza Nord l'hanno rasa al suolo, rasa al suolo per occuparla, già l'hanno occupata, minando il Parlamento, attaccando la biblioteca, distruggendo la biblioteca, ora ci arriverò, pensate quando in passato avevano distrutti i libri, colpendo con una violenza inaudita distruggendo tutto, parliamo di quasi 60.000 unità abitative nella striscia completamente distrutte, ma guardate che nel sud di Gaza sono stati effettuati i bombardamenti, non è che il sud è il paradiso tranquillo e tutti quelli che vanno a sud si sentono al sicuro e sono al sicuro, lì bombarda Israele, uccide, uccide giornalisti, ha colpito nei primi giorni dell'operazione militare addirittura un convoglio di rifugiati nel sud di Gaza, avviene tutto questo, ma non viene raccontato. Questa mattina, vi dicevo, il Corriere della Sera ha pubblicato questo articolo, no, ieri scusate, il 30 dicembre, Gaza City distrutta la biblioteca pubblica, qui venivano i bambini, articolo a firma di Marco Bruna del Corriere della Sera. Nella biblioteca pubblica di Gaza City c'erano migliaia di libri e di documenti storici, ci andavano i bambini dopo la scuola, adesso è distrutta. Le autorità cittadini di Gaza hanno mostrato che cosa oggi rimane della biblioteca, la foto risale al 27 novembre, è finita sotto le bombe israeliane, qui ci venivano anche gli studenti, denunciano le autorità palestinesi, le macerie sono state scoperte durante i giorni della tregua, perché ovviamente le persone non uscivano, perché sennò venivano falcidiate, anche dentro casa venivano falcidiate, chiaramente, quando è stato relativamente sicuro tornare nelle strade e fare un bilancio della distruzione. dunque Israele ha colpito anche la biblioteca pubblica, danno collaterale, capita quando si bombarda il tappeto. E no, io mi sono andato a riprendere questo articolo del 18 febbraio 2022 della Repubblica, quindi vi porto sempre giornali di sistema, di establishment, non certo la Pravda o non lo so, i giornali, le cronache palestinesi. La Repubblica, 18 febbraio 2022, Gaz, rinasce la biblioteca simbolo distrutta dalle bombe. Evitano di scrivere israeliane, figuriamoci, nel titolo, sapendo che la maggior parte dei lettori legge il titolo più che l'articolo, questo è certo, per cui nel titolo non si danno mai notizie, certo, alle volte si scrivono scemenze in generale nei titoli, per poi poter dire, ma, a chi si lamenta delle fake news dei titoli, ma nell'articolo c'è scritto tutto in maniera precisa. Ovvio, perché la maggior parte dei lettori leggono soltanto i titoli, questa è una cosa che a me è capitata tante volte personalmente. Gaza rinasce la biblioteca simbolo distrutta dalle bombe. Vera e propria istituzione nella striscia di Gaza, recita l'articolo, la libreria Samir Mansur, distrutta completamente da un bombardamento israeliano nel maggio scorso, quindi parliamo di maggio 2021. Maggio 2021 bombardamento israeliano che ha distrutto la biblioteca a Gaza. Ma qualcuno ha mai ascoltato questa notizia? Qualcuno sapeva che nel maggio 2021, quindi ben prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso, Israele bombardava Gaza, che era una prigione a cielo aperto, da una striscia grande come un terzo del Comune di Roma, dalla quale era ed è impossibile fuggire sotto il controllo, di fatto sotto l'occupazione, anche se non c'erano militarmente dentro, l'occupazione era garantita, portata avanti di Israele che controllava e controlla i confini marittimi, lo spazio aereo, lo spazio elettromagnetico, i confini terrestri, la compagnia cantante, che ha tutte le risorse per controllare quel territorio da fuori, circonda come se fosse un carcere, la prigione più grande al mondo, è il titolo di un libro di Lampapé, uno storico israeliano molto coraggioso, no? Un lager, una prigione a cielo aperto. Ecco, nel 2021, nel maggio, Israele colpiva, distruggeva una biblioteca che non so, credo che sia la stessa della quale appunto ha parlato ieri il Corriere della Sera, distrutta adesso, in questi ultimi bombardamenti criminali di Israele, credo sia la stessa, non sono sicuro perché gli articoli non... l'articolo del Corriere della Sera non riporta il nome di questa biblioteca. Fatto sta che la Repubblica, nel 18 febbraio del 2022, pubblicava appunto questo articolo. Rinasce un'istituzione di Gaza, la biblioteca, simbolo, distrutta dalle bombe israeliane, distrutta nel maggio del 2021. Dunque, nel maggio del 2021, Israele non soltanto bombardava già Gaza, distruggendo, non colpendo soltanto questi obiettivi di Hamas, questa è propaganda israeliana, ma colpendo i civili perché l'obiettivo è sempre tenere sotto controllo il più possibile Gaza e anche per me Israele ha bisogno... no Israele, alcune autorità israeliane hanno bisogno del terrorismo islamico per poter continuare appunto nell'occupazione anche nella colonizzazione della Cis Giordania. Gli fa comodo a gente come l'Italia o ad altri politici la presenza di Hamas. Non a caso in passato l'hanno sostenute come un movimento palestinese estremista. L'hanno sempre sostenuto perché gli fa comodo, perché possono sempre dire non possiamo attuare accordi o riconoscere lo Stato di Palestina, non possiamo fare niente perché c'è il terrorismo. Questa è la realtà. Tant'è che da sempre, da anni, ciclicamente viene bombardata Gaza e non colpiscono soltanto i civili o gli obiettivi militari che non esistono, ma colpiscono la biblioteca. Cosa è avvenuta in questi ultimi giorni come riportato dal Corriere della Sera e cosa è già avvenuta nel maggio 2021 dopo che la biblioteca l'hanno ricostruita e oggi sarà senz'altro distrutta.